Nel mondo dell'informazione qualcosa ogni tanto succede. Propubblica.org, sito di informazione indipendente, si aggiudica il premio Pulitzer nella categoria giornalismo d'inchiesta, grazie ad un reportage realizzato in un ospedale di New Orleans nei giorni successivi al mortifero passaggio dell'uragano Katrina. Propubblica non è un organo di informazione qualsiasi, è un contenitore di giornalismo fatto, come scritto nella testata, nell'interesse generale e finanziato da singoli donatori, alcuni dei quali assai facoltosi. L'informazione online è oramai in grado di competere a pieno titolo con i mezzi di comunicazione tradizionale, ai quali sta sottraendo giorno dopo giorno fette consistenti di pubblico. Il giornalismo, soprattutto quello di inchiesta, non si può più basare solo su logiche di profitto e di ricerca dell'audience, perché questo significa produrre contenuti generalmente mediocri, simili l'uno all'altro, sostanzialmente piatti ed insufficienti per soddisfare la domanda di informazione. In Italia, invece, assistiamo al definitivo tracollo del sistema di informazione pubblica. Gli ascolti del Tg1 di Minzolini, ad esempio, sono in picchiata, la redazione è rivolta e non si trova il modo di allontanare la politica dalla gestione della TV. Il governo persevera nel ritardare gli investimenti sulla banda larga e taglia in un modo o nell'altro fondi e giornali alle TV e alle radio, soprattutto a quelle indipendenti. In questo scenario, parlare di giornalismo di inchiesta, dimiene una presa in giro, eccezione fatta per alcuni lodevoli casi, come report di Milena Gabanelli e presa diretta di Riccardo Iacona. Il nostro Paese, non a caso, sprofonda nelle classifiche internazionali sulla libertà di informazione. La speranza viene dal web. Costi di investimento e di gestione a sai contenuti possono aprire la strada a modelli innovativi, non solo dal punto di vista della tecnologia, entrata oramai nell'uso quotidiano di milioni di persone, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i modelli editoriali. Il giornalismo dal basso, partecipato e condiviso, indipendente e non servile, fino ad oggi considerato utopistico, perché improduttivo economicamente, potrebbe invece rivelarsi la salvezza per l'editoria, grazie alla sua credibilità e dalla capacità di intercettare i gusti del pubblico della rete, che certo non sono quelli del pubblico televisivo tradizionale, basato essenzialmente sul concetto di consumatori, molto più che su quello di cittadini.